Ciao a tutti, stiamo qui con Tommy, cagnolino che avete già visto quest'estate, che ha fatto le prime due tranci del percorso crescita. Poi a causa di problematiche private, il cane è stato lasciato in abbandono lavorativo, perché il cane è stato benissimo, è stato comunque tenuto bene. Però a livello di lavoro il cane non è stato utilizzato e si è riperso. Adesso non ha bocca più neanche il tartufo maiella, tira guinzaglio, si guarda intorno in continuazione, si distacca tanto dal leader, perché è stato portato poi per peggiorare le cose, con dei cani che probabilmente non gli hanno dato un buon esempio, perché altrimenti questa cosa non sarebbe accaduta. Adesso lo stiamo rimettendo in modalità di lavoro, perché non ci dà retta per nulla. Tira guinzaglio, come vedete in questo momento. Adesso andiamo a ricreare le fondamenta e andremo a fare un vero e proprio risveglio di quello che gli è stato insegnato. Anche questo sguardo proteso, probabilmente, no, no. No, bravissimo, no. L'attenzione la dobbiamo andare a canalizzare su di noi, quindi... Ah, è passato un uccello, quindi mi fa pensare che il cane ha preso l'attitudine alla caccia. Adesso andremo a lavorare su di lui e cercheremo di riportarlo ai livelli di questa estate. Adesso andremo a lavorare su di lui e cercheremo di riportarlo ai livelli di questa estate. Al prossimo episodio